Ciao, sono Alfonso Zambuto e ho partecipato al Festival Vicenza in Lirica 2019, una realtà bellissima con rappresentazioni operistiche e concerti, grazie alla quale ho potuto cantare uno dei più grandi capolavori della musica, quali è l'Apetit Messolennel di Gioacchino Rossini, accanto ad artisti strepitosi, in un teatro unico al mondo e di una bellezza mozzafiato, il Teatro Olimpico di Vicenza.